E a un certo punto vengono a girare una fiction In zona Era una fiction di Boldi Comunque era tutta ambientata in un centro commerciale Quindi la vengono a girare nel posto dove i centri commerciali sono prodotto tipico Che è le zone mie Poi abbiamo ricostruito comunque l'Iraq A fiumicino La magia del cinema Il mio desiderio era fare qualcosa che fosse presente nel paesaggio Ma anche potenzialmente invisibile Cioè è una cosa di cui tu passi La prima volta non la vedi La seconda non la vedi La quarta la vedi Dici ma che c***o